Le dimissioni di Giacomo Papa non rappresentino un deterrente alla realizzazione di un centro radioterapico all'ospedale di Campobasso. È il comitato Pro Cardarelli a sostenerlo che, allineato pienamente sulla posizione del commissario ad acta Donato Toma, ricorda la necessità per una regione in piano di rientro di una programmazione adeguata, tarata sui bisogni della salute dei cittadini e oculata, che non significhi però taglio indiscriminato della spesa sanitaria. Quindi razionalizzare sì ma garantendo il diritto alla salute per il comitato Pro Cardarelli che, in merito all'apertura di un servizio di radioterapia presso la struttura pubblica, vede interessante l'intenzione del commissario di prevedere uno studio di fattibilità e di valutare i relativi costi e anche i risultati. Ricordando che, si legge nella nota del comitato, all'ospedale Cardarelli sono state da tempo realizzate le opere edilizie necessarie all'allestimento del servizio, il cosiddetto bunker. Chi plaude all'iniziativa in atto in questo periodo da parte della struttura commissariale è anche l'avvocato ed ex consigliere regionale Massimo Romano. Per la prima volta in 14 anni, scrive in un post su Facebook, la struttura commissariale ha rispettato il piano di rientro sanitario, fissato dalla legge e monitorato dai ministeri della salute e dell'economia, cioè ha fatto il suo dovere senza cedimenti. Per questo mi auguro che il Consiglio dei Ministri respinga immediatamente le dimissioni del subcommissario Papa, perché in caso contrario ciascuno è autorizzato a pensare che lo Stato abbia ceduto a interessi in contrasto con gli obiettivi di risanamento sanitario e finanziario della regione molise, cioè che lo Stato abbia perso tradendo se stesso e il molise.